E partiamo dalla nostra analisi, allora partiamo come sempre con EuroUSD, per quest'oggi ho tolto tutti i livelli orizzontali, li vado a tracciare adesso così abbiamo un grafico pulito senza diciamo porcherie, scusatemi il termine, che vanno a rendere invisibile praticamente il prezzo, mantenuto soltanto l'analisi ciclica già comunque creata nei giorni scorsi per l'intraday. Allora questa è la ciclica che ho creato nel settimanale, vi ricorderete settimana scorsa, ho evidenziato un ciclo da 54 giorni, un ciclo da 54 giorni che poi sono 40 giorni nominali, lo vediamo che sostanzialmente dovrebbe essere in una fase di rialzo. Dico dovrebbe perché il candelone della settimana scorsa è stato tutto, tranne che rialzista, a meno che questo non sia un ciclo più ampio e allora ci siamo ritrovati praticamente in questa configurazione con un ciclo da più o meno 56 settimane, che tra l'altro ci sta perché il minimo ciclo che si è venuto a creare qui, allora abbiamo visto comportarsi il prezzo nel modo corretto con il suo ribasso. Tenendo buono il ciclo in questa maniera, perché in questa maniera? Perché praticamente la future linea di marcazione, in questo caso da 14 settimane, dovrei calcolare i giorni, però io per comodità nel tool l'ho fatto creare in settimane, adesso poi farò fare la conversione, nel mio evidenza praticamente i massimi e i minimi dei cicli, al di là di quello che vediamo qua. Io divido il ciclo per 4, quindi la futura linea di marcazione è corretta e che utilizzo. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che questo in realtà è un minimo ciclico, quindi qui siamo in presenza di un probabile nuovo minimo ciclo che quindi ha dato inizio a quello che sarà il nuovo ciclo di mercato. Se tengo sostanzialmente corretto, quindi come riferimento, il ciclo precedente di circa 56 giorni, mi posso aspettare, 56 settimane, mi posso aspettare nuovamente un ciclo di 56 settimane. Quindi per quanto riguarda Euro-Dollaro, io sono tendenzialmente rialzista per il medio periodo, anche se questa settimana potrebbe continuare da un punto di vista temporale anche con un'ulteriore accelerazione verso il basso di Euro-Dollaro, ma veniamo a quelli che sono a mio avviso i livelli più interessanti di Euro-Dollaro. A questo punto lo dobbiamo per fatti andare a tracciare, allora stavo prendendo un'altra line che nulla c'entra, andiamo a tracciare i livelli più vicini possibile, chiaramente al prezzo, il prezzo si trova in questo momento qui, io qua ci metto sicuramente una bella resistenza, così ne vado a mettere anche un'altra qui, proviamo ad andare un po' più indietro, se riusciamo a vedere un qualcosa, niente, siamo talmente su livelli bassi che è difficile da cercare, potrebbe essere anche questo qui, vediamo un po' cosa ne è uscito fuori qui sul giornaliero. Allora, quello che a me interessa è, allora in questo momento siamo in una fase dove prendere posizione e bisogna aspettare un attimo, nel senso che per me i livelli importanti sono 1.06 e 0.1, quindi 1.0.60 per eventualmente cercare configurazioni ribassiste, però facendo attenzione a questa trendline molto importante, questa è una trendline da 50 giorni nominali, chiedo scusa, il prezzo qualora rimbalzasse su questa trendline potrebbe, anzi dovrebbe da un punto di vista ciclico riprendere la sua fase rialzista, perché vedete che in questo momento ci sta assolutamente la fase di correzione al ribasso per quanto riguarda l'euro dollaro, il trend di fondo è indubbiamente a rialzo, meno a mio avviso è ancora a rialzo, per me diventerà ribassista, quindi un nuovo ciclo ribassista solo quando vedrò il prezzo rompere 1.06, 1.0.60, faccio fatica a leggere il numero, vi chiedo scusa, e soprattutto rompere questa trendline ciclica. Per quanto riguarda invece operazioni rialziste, che sarebbero a mio avviso a favore di trend fino più o meno al 9 di aprile, un bel livello sarà 1.07 e 0.04, per cercare operazioni a rialzo. Vedremo poi settimana prossima come saranno andate le operazioni, quindi operazioni rialziste che potremo mantenere fino al 7 di aprile. Andiamo a vedere il cable, GBPUSD è in una fase di lateralità, quindi se togliamo un attimo la ciclica lo vediamo decisamente, si vede decisamente bene che siamo in una fase di assoluta lateralità. il prezzo è praticamente contenuto in questa fascia che va da 1.27 e 0.36 a 1.19 e 0.70, quindi davvero pochi pip, perfetto, circa 780 pip, quindi 7 figure che possono sembrare tante, ma il cable in realtà muove parecchie, perché muove mediamente 100-120 pip al giorno. Andiamo a vedere sul settimanale, che non ricordo neanche più se avevo fatto la ciclica la settimana scorsa, esatto, infatti non l'avevo fatta. Andiamo a fare una prima analisi 50, 30, 60, proviamo a vedere così cosa esce fuori, va? Se riusciamo a identificare un ciclo, non c'è niente, allora ancora più giù, ok ci siamo quasi, ecco qua direi che allora, si sposa sicuramente con cicli da 65 giorni, chiaramente 65 giorni in questo caso è una media, perché non sono tutti precisi identici i cicli, ma questo serve soltanto per identificare sul settimanale, quindi sui cicli settimanali, come siamo posizionati. Direi che qui si sposa bene, vedete che anche con una sinusoide massimo, minimo ciclico, massimo ciclico, quindi ci potremmo aspettare sicuramente. Allora, sul settimanale siamo in una fase ciclica che ha rialzo, quello che vediamo qui è il ciclo da 18 settimane, quindi un ciclo a 20 settimane nominativi, e un ciclo nominale, e quindi io mi aspetto la possibilità di andare a cercare, sul settimanale, posizioni chiaramente a rialzo, non perché la candela sia verde, ma ovviamente perché il ciclo questo mi sta comunicando. Se scendiamo sul daily, vediamo che cosa ci dirà, invece che cosa ci dice il mercato, per un'operatività un pochettino più di breve. Quindi andiamo a tracciare la nostra futura linea di marcazione. Allora, la futura linea di marcazione, in questo momento, vedete che sta sostenendo il prezzo. Siamo in una fase di lateralità assoluta, ricordiamo che un ciclo superiore naturalmente è composto da cicli inferiori, un ciclo inferiore ha i suoi movimenti tipici ciclici, che dovrebbero essere, dico dovrebbe perché non sono mai precisissimi, nel senso che non si ripetono sempre con regolarità, dovrebbero essere uno, due, tre, quattro, quindi una fase a rialzo lungo, una fase a ribasso un po' più breve, una fase a rialzo più lungo, una fase a ribasso un po' più breve. L'entità di queste fasi dipende chiaramente dall'ampiezza del ciclo, più un ciclo è ampio, più avremo la fase di ritracciamento, chiamiamolo così, o di chiusura comunque, della metà del ciclo principale, che sarà naturalmente più lungo. Ma questi sono concetti che vengono naturalmente spiegati, e imparerete qualora decidiate di approfondire l'analisi ciclica. Visto che il cable è molto regolare, beh, io che cosa faccio? Intanto vado a determinare, scusatemi, dei livelli orizzontali, chiaramente di prezzo, che possono essere utilizzati per cercare operazioni, operatività al di là dell'analisi ciclica. Poi naturalmente invece io utilizzo in più l'analisi ciclica per isolare eventuali possibilità di trading. Ho messo un attimo le chiusure per vedere se si riescono a evidenziare un po' meglio i livelli, perché con le candiere è pieno di ombre da tutte le parti, però questa è un'area che non mi dispiace. Allora io direi, per quanto riguarda il GVP USD, che non sarebbe male cercare operazioni a rialzo con la rottura di 1,25 a 1,72, quantomeno come area naturalmente. Come sapete, io esorto sempre a cercare delle conferme con le vostre metodologie, quelle che io do sono livelli che vale appena attenzionare per cercare delle condizioni idonee a operare. Non sono livelli che dovete assolutamente utilizzare per entrare al mercato. La banzai, come dico, misuratevi sempre comunque i livelli per essere sicuri che si sposino con la vostra operatività. Operazioni invece a ribasso le andrei a valutare con la rottura di 1,25 e 1,15. Mi piacerebbero un po' di più, per il quale motivo perché mi ritroverei con due cicli, anzi tre cicli a ribasso. Avrei il ciclo 84 giorni che sarebbe nella sua fase conclusiva. Avrei il ciclo A, 43 giorni nella sua fase conclusiva. Avrei anche questo ciclo qua, scusatemi, il ciclo A, 20 giorni nella sua fase conclusiva. Quindi potrei attribuire un valore 3 all'eventuale possibilità di andare short di GBP e USD. Chiaramente io aspetterò la rottura della futura linea di marcazione a 21 giorni quindi comunque si parlerà per quanto mi riguarda di operazioni a ribasso molto probabilmente un po' più sotto intorno all'area presumo 1,24,81 qualora il prezzo chiaramente scendesse nell'immediato. Gli USD Yen è un po' complicato chiedo scusa qui non ho tolto le linee orizzontali diciamo soltanto la ciclica in questo momento andiamo a vedere sul settimanale lo settimanale beh tendenza rialzo non ci piove anche se abbiamo avuto una gran bella breccata sicuramente spero che non stia cadendo la linea perché ho sentito la piattaforma di sconnettersi abbiamo avuto una bella breccata quindi questa trendline che ha dato inizio alla fase di ribasso ma abbiamo avuto anche questa bella breccata che ha dato appunto inizio alla fase di rialzo tra l'altro accompagnato in maniera persoché perfetta vedete questo ciclo a 100 settimane in realtà andrebbe misurato in mesi e non in settimane questo ciclo adesso cosa facciamo? beh adesso io con la futura linea di demarcazione riesco a identificare un nuovo minimo ciclico un nuovo minimo ciclico l'ho avuto qua il prossimo minimo ciclico ce l'avrò quando il prezzo andrà a breccare nuovamente la linea verso l'alto e da un punto di vista ciclico lo vedete siamo nella fase di diciamo di oltre nella fase metà abbiamo praticamente sono un po' incasinato e appena superato la metà di questo ciclo da 20 settimane quindi mi dovrei aspettare sostanzialmente una continuazione ribassista per quanto riguarda USDM però chiaramente bisogna rimanere come dico sempre io in campana perché comunque il trend di fondo rimane a mio avviso ancora rialzista anche se la anche perché scusatemi la rottura di questa trendline in realtà ancora non ce l'abbiamo non abbiamo ancora avuto la possibilità a mio avviso di tracciare una trendline che ci possa dire ok la fase di rialzo è terminata quindi inizia una fase di ribasso rimanendo diciamo idealmente da un punto di vista dei cicli superiori in una condizione in cui potremmo assistere a una fase di flessione del prezzo quindi di ritracciamento e di correzione del prezzo andiamo a vedere che cosa ci dice su il time frame daily quindi per un'operatività più di medio termine sono un po' impastato stasera come se non facessi analisi tipo da un anno questo mi piace come livello anche se qui abbiamo avuto un po' di falsi break out però guardate quante belle ombre qui c'è quante minimi qui massimo qui anche qua l'ha mancato di poco secondo me se metto le tisure sarà molto preciso come livello qui l'ha sporcato di un niente qui ha tenuto qui ha tenuto qui siamo un po' lontani però secondo me ci sta come livello dove andare a eventualmente decidere le nostre operatività beh allora il ciclo superiore ricordiamoci che è in una fase di ribasso ok quindi io che cosa direi direi che in caso di rottura di 110-55 potremmo andare a cercare l'operazione al ribasso invece in caso di rottura delle resistenze di 111-95 potremmo andare a ricercare operazioni alle rialzo da un punto di vista delle trend line che sono importanti da evalutare perché ci danno insieme chiaramente all'FLD un quadro una possibile un possibile segnale di ingresso sicuramente 110-55 qualora dovesse venire roto sarà un livello che vedrebbe USDN scendere e non poco perché perché avremmo avuto sia la rottura della futura linea di marcazione quindi rottura del ciclo praticamente a 11 giorni cioè del ciclo sia a 11 giorni e anche appunto la rottura della trend line la rottura di livello orizzontale quindi sarebbe veramente un gran bel livello da shortare magari aspettare non sarebbe male qualche giorno e cercare l'operazione di ribasso intorno al 6 del mese perché appunto lo possiamo vedere ci potremmo anche aspettare una piccola correzione verso l'alto da parte del prezzo perché il ciclo a 40 giorni lo vediamo nella sua fase di prima metà nella prima metà tendenzialmente anche in un trend a ribasso io tendo a un pochettino ignorarla perché se il trend principale è ribassista non vado a prendere in questo caso posizione a rialzo su un daily per mantenere le posizioni andiamo a vedere adesso EuroGBP EuroGBP sta rispondendo molto bene al movimento ciclo ho individuato i cicli da 68 giorni perché comunque sono precisi qui siamo intorno a una settantina qui vedete intorno a 65 giorni qui siamo un po' più lunghi però questa qui la possiamo considerare per me un più o meno 10% vedete che il successivo diventa subito un 65 giorni ciao intanto anche a Giovanni ben arrivato e quindi EuroGBP sul daily ha sposato decisamente bene quello che sono i movimenti tipici di un ciclo quindi i movimenti ad M andiamo a vedere sul settimanale non ricordo se avevo tracciato probabilmente si me l'ho cancellato andiamo quindi a rifarlo direi che già ad occhio vediamo che abbiamo cicli a 30 settimane quindi cicli che possiamo fare tranquillamente così da 60 che è un 40 settimane vediamo un po' se riusciamo a metterlo perfetto allarghiamolo un po' vedrei che così ci siamo guarda soltanto se riesco a mettere il minimo giusto perché cambia molto la forma se si adatta l'arcycle indicator chiaramente ha l'inclinazione quindi ha il trend che abbiamo in atto sostanzialmente vediamo un po' di sta robina lo vediamo che ha risposto sicuramente bene e anche in questo caso anche se magari sembrerebbe di no in realtà sta rispondendo molto bene il prezzo all'andamento tipico ciclico perché questo massimo che vediamo qui sarebbe questo e questa flessione ovviamente è questa qui quindi ci siamo assolutamente quindi siamo in tendenza con quello che è la previsione ciclica adesso siamo in un momento in cui però potremmo anche aspettarci che cosa un'inversione quindi un un cambiamento di tendenza per quale motivo perché questo massimo doveva essere più alto di questo in linea di massimo invece non lo è stato quindi il campanello d'allarme è che in realtà si stia formando sia un nuovo ciclo quindi questo qui sia un nuovo ciclo ma sia un ciclo al ribasso perché non vuol dire perché siamo nella fase iniziale di un ciclo per forza se deve andare long nella fase finale se deve andare short perché naturalmente tutto dipende dalla tendenza dal trend quindi qua si rimane un attimino a mio avviso in campana per quanto riguarda il settimanale un bel indizio è la rottura che abbiamo avuto di settimana scorsa sotto alla FLD da 13 settimane per quanto riguarda il giornaliero normalmente i time frame inferiori anticipano quelli che sono i movimenti del futuro non come a volte io leggo e sento poi sono le mie idee questa qui chiaramente dove una candela settimanale ci dice come lavorare su un time frame inferiore la logica semplice e logica dice che questo non è possibile è come andare nel futuro per prevedere il passato forse quel film lì ha avuto anzi quel film ha avuto molto successo però ritorno al futuro però in realtà la logica ci dice che non può essere così non è un evento del futuro che può prevedere un evento nel passato è il contrario un evento nel passato poi eventualmente inciderà anzi sicuramente inciderà su un evento futuro e anche nel trading in parte così funziona perché l'analisi ciclica si basa chiaramente su cicli passati non su cicli futuri questo è più che ovvio quindi provate questo accorgimento se per caso non lo utilizzate per quanto riguarda EuroGVP sul daily beh a parte che EuroGVP è un cambio che proprio non mi piace faccio fatica a lavorarlo se da un punto di vista ciclico ovviamente sarai più propenso per un rialzo e un rialzo non lo andrei a valutare prima della rottura di 0,86 e 23 quindi sostanzialmente siamo un po' lontanucci da poter andare a prendere posizione rialzo intanto il mercato lo vediamo ha aperto quasi tutto per adesso con un gap di intorno una decina di pip quindi non tanto operazione a ribasso contro ciclo le andrei a prendere a cercare con la rottura di 0,84 51 mi raccomando ricordate quello che sta succedendo nei cicli superiori il ciclo superiore potrebbe avere invertito la sua tendenza questa trendline è la trendline ciclica perché abbiamo avuto un massimo confermato per la rottura del prezzo con la futura linea di demarcazione qui quindi questo è un massimo ciclico ok e quello che vediamo qui è un altro massimo ciclico perché abbiamo avuto la rottura di questa candela sotto alla futura linea di demarcazione senza guardare le forme pattern e varie proprio la rottura mi ha dato conferma che questi qua sono due massimi quindi linea di massima ci potremmo aspettare ok dei cicli al ribasso il giornaliero non ci dà ancora un'indicazione chiara anche se in realtà la breccata l'abbiamo avuto qua quindi già qui si poteva iniziare ad andare a cercare operazione a ribasso su EuroGBP per chi naturalmente trada questo strumento che ripeto a me proprio piace e poco andiamo a vedere adesso il DAX il DAX è senza fine siamo ormai vicinissimi ai massimi importanti mancati di poco settimana scorsa di 12.452 e 60 andiamo a metterlo perfetto che è meglio 12.428.5 quindi che dire il trend è a rialzo il ciclo è nella sua fase di rialzo quello che io ho identificato sono cicli da se consideriamo anche questo spike da 100 giorni ci sposano anche abbastanza bene vedete che questo qui era leggermente inferiore perché era 97 giorni comunque tendenzialmente è corretto quindi ciclicamente siamo in una fase di rialzo bene anche dire che anche i cicli superiori sono assolutamente in una fase di rialzo perché lo vedete siamo ormai a cavallo tra la chiusura praticamente di un ciclo 80 settimane poi anche qui c'è da fare chiaramente il conto in mese che è un ciclo a due mesi in questo caso naturalmente quindi la tendenza sarebbe in questo momento per il DAX lo vedete ha completamente tralasciato le fasi correttive cicliche anche se in realtà un po' vedete che le andate comunque a gestire e a cercare adesso il prezzo potrebbe visto che siamo in una fase di chiusura rallentare ulteriormente la sua costa e riprendere la sua diciamo la sua poi la sua fase a rialzo quando chiaramente in caso di rottura di 12.428 per quanto riguarda la ricerca di operazioni a rialzo e operazioni a ribasso francamente non le prenderei neanche troppo in considerazione nel senso che il trend è a rialzo che più a rialzo non si può si potranno andare a prendere in considerazione quando quando avremo un massimo ciclo che il prossimo massimo si dovrebbe verificare indicativamente intorno al 17 di aprile che inizierà a vedere poi massimi successivi più bassi se proprio vogliamo cercare operatività a ribasso beh direi da un punto di vista prettamente proprio tecnico soltanto di rottura di livelli 12.203.60 potrebbe essere un bel livello dove andare a cercare operazioni a ribasso per vedere magari il DAX spingersi poi fino a 11.891.2 al proposito vado a vedere qua che cosa ci dice praticamente la data del ciclo vedete che anche allora qui riusciamo a evidenziare il time frame daily però riusciamo a evidenziare tutti i cicli di anzi facciamo così almeno si vede i cicli da 55 mesi 18 mesi 40 settimane 20 settimane 70 giorni 80 giorni quelle che interessano lo vediamo storie perché abbiamo il ciclo a 55 mesi che è una fase di arrivante molto bene ok abbiamo anche il ciclo a 18 mesi che ormai è a cavallo quindi è nella sua fase terminale è nella fase di assenza sostanzialmente di direzione abbiamo poi il ciclo da 40 settimane per chi ora potrebbe già essere avvenuta e lo possiamo anche lo vediamo sicuramente bene che non c'è stato assolutamente nessun momento diciamo di debolezza da parte del DAX nonostante abbiamo appunto un ciclo due cessioni in chiusura quindi 40 settimane 20 settimane e 80 giorni ci sono poi anche cicli inferiori mi dovrei cambiare cambiare tempo in questo cosa ci dice ci dice che assolutamente la forza del DAX è notevole io chiaramente qui parlo soltanto dal punto di vista ciclico e tecnico tralascio tutto quelli che sono discorsi macroeconomici perché non mi competo scienze di tale materia è inutile che vada a esprimere pareri che sarebbero pareri assolutamente da bar e nulla più possiamo dire che da un punto di vista della tendenza assolutamente dovremmo essere al ribasso però che cosa possiamo vedere molto molto bene che in realtà abbiamo tutti questi cicli che è vero che sono in chiusura ma in chiusura vuol dire che sono in una fase in cui stanno praticamente girando e lo vediamo anche molto bene qui qui abbiamo una una serie appunto di minimi ciclici che potrebbero respingere anzi faranno sicuramente daranno sicuramente modo al DAX di in caso rottura chiaramente del livello che abbiamo visto precedentemente di prendere ulteriormente forza rialzista e chiaramente il prossimo livello da attenzionare come abbiamo detto sarà 12.343 che sarà l'obiettivo oltre alla quale vedremo sarà qualcosa che da un punto di vista finanziario si potrà sicuramente scrivere sui libri andiamo a vedere il gold allora il gold come sapete abbiamo chiuso un gran bel trade la settimana scorsa un trade che è durato più di 10 giorni perché eravamo entrati qua siamo usciti qui è durato 11 giorni ha seguito per allora il gold è a dir poco spettacolare come segue l'analisi ciclica è veramente perfetto che più perfetto non si può andiamo a cercare cicli su il settimanale per cercare appunto cicli 50 40 allora facciamo così questo lo vado io vado a fare orizzontali poi eventualmente andiamo a sistemare ops ho sbagliato ok lo vediamo bene sono cicli da circa 53 settimane quindi cicli a 50 settimane nominali in questo caso cosa faccio vado chiaramente adesso a ricostruire il ciclo perché non è orizzontale non è un ciclo orizzontale ma è evidente che questi due minimi ci danno conferma che siamo in una fase rialzista quindi il trend di fondo è assolutamente al rialzo lo vado a inalzare proviamo un po' con un 5 se va bene ok un 5 direi che ci siamo e si può vedere come è preciso anche da un punto in vista dell'ampiezza ciclica qua iniziano i primi dubbi i primi dubbi perché perché questo massimo doveva essere più alto di questo massimo qua in realtà è stato più basso questo cosa vuol dire che potremmo essere anche in questo caso in presenza di una possibile inversione di tendenza ok non ciclica il ciclo quello è ma di tendenza semplicemente di tendenza andiamo a tracciare la futura linea di marcazione vediamo cosa ci dice ci ha creato chiaramente un minimo ciclo che questo qua e in realtà ci ha andato a creare già un altro minimo ciclo che questo quindi possiamo permetterci di tracciare la trend line in questa maniera da un punto di vista ciclico operazione rialzo fino al 9 di aprile potremmo aspettarci se però la tendenza così come sembra in questo momento potrebbe essere una fase diciamo di inversione ecco che allora non mi dispiace andare a cercare eventualmente anche occasioni ribassiste occasioni ribassiste che in realtà stiamo già iniziando a vedere manifestarsi con la quasi chiusura in realtà sta tenendo della candela sotto la futura linea di demarcazione allora da un punto di vista dei livelli di prezzo in questo caso è semplice perché rimaniamo comparazione a rialzo per quanto riguarda il gold con la tenuta di 1241.22 e anche per quanto riguarda i cicli in questo caso giornalieri quindi c'è il ciclo sul frame giornaliero quindi sotto cicli del ciclo principale a 80 giorni vedete che ci dice a rialzo però noi che cosa facciamo sapendo che ai piani superiori come a volte mi piace ironicamente dire potremmo essere in presenza anche di fase di ribasso rimaniamo in campana però non possiamo negare tracciando anche una semplice linea verticale che in realtà il ciclo settimanale ci dice rialzista in questo caso dal punto di vista ciclo perché lo short lo potremmo considerare solo con la rottura di queste tre line in realtà siamo in una fase di lateralità che sarebbe meglio forse non lavorare che sarebbe un po' più saggio rispetto a effettuare operazioni però che cosa facciamo da un punto di vista livelli direi operazione a rialzo con tendenza ciclica favorevole a 1265.20 come livello e invece operazioni al ribasso con la rottura di 1241.22 però facendo attenzione che siamo un attimino contrari da un punto di vista ciclico andiamo alla fine a vedere il crude oil complimenti ai miei ragazzi che erano long io maledizione non l'ho preso perché sono entrati qua a 48.88 sono abbondantemente già arrivati a target il rialzo potrebbe continuare fino a 54.76 ovvio dopo un allungo del genere mi aspetto un eventuale ritracciamento da parte del mercato anche se questa parte che si vede poco ma in realtà è un ciclo a 10 giorni ok è già stata abbondantemente superata dal petrolio quindi direi dal prezzo scusatemi quindi 50.74 bel livello per cercare operazioni al rialzo così come invece operazioni a ribasso che però prendere in considerazione soltanto dopo il 4 di aprile indicativamente potrebbero essere ovviamente se ci ritroveremo poi in una situazione al di sopra di 50.74 sarà lo stesso livello a darci probabilmente indicazioni a ribassiste però in caso di tenuta cosa che secondo me ci potrebbe stare un livello per cercare operazioni al ribasso fanno trovare togliamo un po' di roba che se no non vedo il prezzo ok ci possiamo mettere qui a mio avviso potremmo andare potremmo andare a cercare in due modi o con la tenuta di 50.74 che sarà la cosa più probabile secondo me oppure aspettare scusatemi non ho fatto un tempo per chiudere il microfono aspettare la rottura di 49.70 per andare a cercare operazioni al ribasso che a mio avviso ripeto intorno al 4 di aprile si potrebbero anche venire a verificare bene sono le 23.36 puntuali mezz'ora come sempre la domenica dura un periodo di più vi do appuntamento a domani mattina alle 9 con la consueta analisi per quanto riguarda l'intraday vi auguro buonanotte vi chiedo per cortesia di cliccare su il pollicione vedo che l'avete fatto vi ringrazio per questo e appuntamento a domani mattina alle 9 ciao a tutti quanti e buonanotte grazie a tutti grazie a tutti